Stamane il direttivo di Casa Pound Italia, il blocco studentesco erpino, ha istituito la giornata ecologica per la riqualificazione e la rinascita della struttura sportiva situata in via Visconti e la pulizia dell'annesso Parco Palatucci, lasciati dal comune in preda ai vandali e utilizzata come discarica a cielo aperto. Intanto l'associazione ha già fatto richiesto al presidente della quinta circoscrizione di Avellino, Eugenio Rescigno, di sottoscrivere una convenzione per la gestione della struttura sportiva per una durata limitata. Casa Pound Avellino da sempre promuove il sul territorio di Avellino iniziative sociali e culturali, soprattutto nei quartieri periferici, dove si incontrano spesso disagi giovanili dovuti anche alla pessima organizzazione. Il direttivo inoltre dichiara con soddisfazione che l'obiettivo della prima giornata ecologica è stato raggiunto, l'azione di pulizia e di sensibilizzazione sulla tematica degli spazi sociali in città addestato dal letargo sia alle istituzioni che agli abitanti del quartiere. Il parco Palatuccia, aggiunge il direttivo, è un bene per tutta la comunità vellinese e ribadiamo la nostra volontà di difendere la città, oltre gli staccati ideologici. Infine ringraziano la signora Katia Ruperto dell'associazione Girasolo Kindergarden per dare disponibilità al dialogo costruttivo.